Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ho appena finito di registrare la reaction al trailer di Werewolf by Night, lo speciale di Halloween che arriverà su Disney Plus il 7 ottobre e adesso passiamo direttamente alla reaction del trailer di Secret Invasion, rilasciato anche questo naturalmente al D23. Prima di iniziare come sempre però vi invito a seguirmi su tutti i social, trovate i link in descrizione, Instagram, Twitter e TikTok tutto in descrizione assieme al link di Pampling, codice il pensiero 4 per supportare il mio canale, vi informo che fino al mercoledì prossimo tutte le t-shirt del sito costano solo 10 euro l'una e in generale se volete supportare questo canale in modo gratuito basta lasciare semplicemente un like, magari condividere, lasciare qualche commento ma adesso passiamo alla reaction del trailer perché sono davvero tanto tanto curioso. È uscito qualche ora fa, ho dovuto aspettare perché ho pubblicato tutti i post su Tickets for Nerd in contemporanea agli annunci che venivano fatti al D23, quindi vediamo se l'attesa ha ripagato. Nick Fury penso Sì Nick Fury barbone Finalmente è tornato dopo essere andato non so quando però se n'è andato via dalla terra Sempre se è lui Molto probabilmente sarà il vero Nick Fury Magari è lei che non è Maria Hill Ah vero che c'era anche War Machine nel... era stato confermato Ok, Martin Freeman Qui è l'agente Ross Quindi Talos qui sarà contro la sua stessa specie Va bene Lei è palesemente la cattiva, la Coleman Emilia Clarke Ok Probabilmente la Clarke sarà la figlia di Talos Wow Fatto bene Questo un po' meno Ok Ok Interessante Interessante Assolutamente Eh non c'è ancora una data Generico 2023 Allora ragazzi che dire Mi ha ricordato tantissimo un Black Widow O anche meglio Captain America The Winter Soldier E penso che l'idea fosse quella dei Marvel Studios Fare una roba un po' più spy Anzi era già stato confermato Tra l'altro sarà probabilmente ancora più ansiogena come serie Perché è ovvio che nessuno dei personaggi principali Ma inserisco anche noi spettatori all'interno Sa con chi realmente sta parlando Se quello che ha davanti è realmente quella persona Oppure uno Skrull che ha le sembianze di quella persona Non so se gli Skrull riusciranno a emulare anche i superpoteri dei supereroi Non penso Sia perché sarebbe un problema dal punto di vista di CGI E quindi di budget per una serie su Disney Plus Ma anche perché comunque sarebbe troppo complicato sconfiggerli Non penso che gli Skrull verranno sconfitti in questa serie Anche perché comunque è semplicemente da quello che sembra O un solo gruppo di Skrull che ha deciso di diventare cattivo dopo una ribellione O è semplicemente Talos l'unico che è rimasto buono Facciamola così Quindi tutti gli Skrull sono cattivi Adesso è l'unico Talos che aiuta Nick Fury E possibilmente poi anche in Captain Marvel 2 Potrebbe comparire anche lì Talos Se non muore in questa serie Fatto sta che il mio interesse per questa serie è cresciuto Dopo il trailer è cresciuto Non credo vedremo eroi di un certo calibro rivelarsi Skrull Penso come molti rumor che Verrà rivelato che Carter, la nipote di Peggy È in realtà uno Skrull Non è la vera Sharon Carter E credo comunque che nel corso della serie Riveleranno altri personaggi secondari e terziari come Skrull Chi lo sa, probabilmente persino la gente rossa si rivela uno Skrull Perché sappiamo alla fine che gli Skrull Prendono le sembianze di persone abbastanza importanti Soprattutto nel governo di un certo pianeta Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Se questo trailer vi è piaciuto oppure no Fatemi sapere tutto con un commento Vi ricordo ancora una volta che è già uscita la reaction al trailer di Werewolf by Night La trovate qui, nelle schede E vi ricordo anche che domani, appena possibile Ci sarà il recap Come quello che c'è stato oggi per quanto riguarda Disney, Pixar e Disney Animation Ma per quanto riguarda gli annunci di questa serie Ovvero quelli di Marvel, Lucasfilm e 20th century Anche se, diciamo, ci sono stati annunci solo per Avatar Però aspettiamo ancora il panel che arriverà a mezzanotte e mezza Su altri prodotti che ovviamente ingloberò nel recap E ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine Io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi Noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude, ciao! Ciao!